Concentratevi sui vostri obiettivi, sono la vostra priorità. Abbiamo identificato un dispositivo EMP nemico, fatelo saltare. Abbiamo identificato un dispositivo EMP. Abbiamo identificato un dispositivo EMP. Abbiamo identificato un dispositivo EMP. La carica è piazzata. 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 Abbiamo attivato il sensore. Difendetelo durante l'analisi. La carica è piazzata. 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 Raimond piazzata. Raimond piazzata. Raimond piazzata. I rifornimenti sono nostri. Dipendete il nostro generatore e MP mentre si carica. E' un'altra parte. Spermi che lo vedi. Non ti senti? E' un'altra parte. Rapplicazione che si tratta. Ma che cosa? Spermi che si tratta. E' un'altra parte. Iniziamo la sua volta. Spermi che si tratta. Un'altra parte. Un'altra parte. Fizioni, sì! Rating in corsa, attendete! Identificazione posizioni nemiche! Rating in corsa! Grazie. 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 Grazie.